L'apositismo è un inizio, eppure ne siamo consapevoli, è presente sulle nostre istituzioni e che per quanto va tutto con determinazione, soprattutto quando esso mina l'indicabilità dei cittadini, di certo non può essere ritenuto la vera causa dei prodi. Che ricordo ha di la signora? Ricordo di una persona di una disponibilità estrema, ma soprattutto una persona che voleva conservare questi valori veri che sembra che oggi distratti da tutte le cose che noi ne vogliamo dimenticare. Quindi questa è la ricchezza che ci ha la sciatolina. Come associazione noi la teniamo sempre presente. Il dovere intanto chiedevi a grazie assolutamente per l'accelerazione di costruzione degli edifici e degli istituti. Grazie a tutti.